Stefano Sartini, è dei nostri e ne siamo orgogliosi, è nato a Senigallia Esatto, sono anche vicino ai miei concittadini, per questo ho per servizio Ed è il regista della trasmissione di Rai 2, Italian Green, che va in onda tutti i sabati alle 10.10 Quindi domani tutti a seguirla Il programma è dedicato all'ambiente e un viaggio nell'Italia sostenibile Esatto, è partita da una piccola scommessa con Gianluigi Polisena che è il produttore Rai 2 ci ha premiato e da una puntata unica siamo diventati già 12 puntate In onda domani mattina su Rai 2 È un programma interessante, guardatelo È lo specchio di un'Italia che lavora e produce in maniera sostenibile e innovativa Esatto, noi daremo consigli, abbiamo anche un TG Green Consigli, suggerimenti, ma con una visione positiva di come affrontare la parte di sostenibilità Di aiutare questo mondo, di farlo più green Stefano Sartini, se le dico a Cesar Cremonini e a Giancarlo Magalli che cosa le viene in mente? Oddio, due bellissime esperienze Con Cesar ho curato la supervisione della regia di tutti i concerti che lui ha fatto a Bologna, Milano e Roma E poi invece con Giancarlo Magalli ho avuto l'esperienza di fare una parola di troppo Su Rai 2, 30 puntate e devo dire che è simpaticissimo Molto pungente, ma molto arguto, ma molto intelligente E devo dire che è veramente un grande signore della televisione Che spero, anzi, ritornirà presto sugli schermi Perché è stato anche un pochino male Penso che dovrebbe ritornare insomma Hai incontrato la star Madonna a Londra E poi ha ricordi con appunto Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Emili Carlucci Eh sì La televisione di una volta si può dire Esatto, esatto Beh, sono tanti anni che faccio il regista televisivo Diceva, l'esperienza con Mike Bongiorno è stata meravigliosa Perché veramente era una persona veramente di classe Con Pippo Baudo veramente un signore, il numero uno della televisione Anche come esperienza, come proprio ti faceva sentire a tuo agio Lavorare con lui Mili Carlucci, una macchina da guerra, proprio molto professionista E l'esperienza Madonna a Londra è stata molto bella Devo dire che ho avuto una sensazione di star veramente vicino a contatto E intervistare e parlare una star a livello mondiale proprio Il mondo del teatro è sempre affascinante Stefano Sartini ma lei ha cominciato con la radio proprio in zona E in Grecia è considerato il principe della regia televisiva Esatto, sì, è un'esperienza di 18 anni